Centri commerciali, supermercati, alberghi e parcheggi comunali. A insegnarci la buona prassi del posto riservato alle mamme in attesa o con un bimbo piccolo sono stati i paesi del nord Germania in primis. Ora quella dei parcheggi rosa è una realtà diffusa anche in Italia e sono arrivati anche a Savignano. Per ora è una sperimentazione, istituiti tre posti cui si potrà accedere esibendo un apposito contrassegno, naturalmente rosa, richiedibile allo sportello rosa del comune. La possibilità di poter parcheggiare a ridosso dei tre servizi principali che diamo alla città almeno inizialmente come primo servizio promotore, ossia vicino al centro storico, qui in piazza Faberi appunto dove vedete in questo momento su nello stallo, poi in prossimità dell'ospedale Santa Colomba qui a Savignano e in finire presso la farmacia comunale nella zona Cesare. Per quanto riguarda le mamme in gravidanza diamo la possibilità di venire a fare la richiesta direttamente qua all'ufficio sportello rosa, ma per tutti i bimbi nuovi nati, quindi nuovi cittadini della città inviamo già noi, proprio perché già i presupposti sono già riconosciuti, un tagliando da utilizzare e che rappresenta un titolo che è in mano al minore, quindi al bimbo, la bimba e che può utilizzare qualsiasi accompagnatore, quindi ad esempio un nonno o anche lo stesso papà. In questo senso ecco il segno è verso la pari opportunità, in questo caso al contrario.